Come si fa ad acquistare una fotocamera usata di seconda mano? In questo video parliamo di questo tema, andremo a vedere le cose da controllare prima di fare un acquisto, dove è più sicuro acquistare e che tipologia di fotocamera andare a cercare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni, ho diverse fotocamere in mio possesso, come abbiamo già avuto modo di vedere in video passati. In questo video sono qui a raccontarvi come sono entrato in possesso di questo nuovo corpo macchina. Questa è una Canon EOS 5D Mark III, una macchina che mi mancava nella mia linea. Io avevo la Mark II e la Mark IV, quindi mi manca la prima, la primissima capostipite, che però non credo di acquistare in questa fase perlomeno. Mi mancava la Mark III e sono molto contento di essere riuscito a mettere le mani su una di queste macchine perché si tratta di una macchina fuori produzione che non fanno più, quindi accaparrarsene un modello adesso può essere l'ultima occasione per avere una fotocamera di fattura molto buona, ma con un feeling un po' più retro e quindi con un'esperienza di scatto diversa ma comunque professionale. Come detto, in questo video andrò a raccontarvi come l'ho trovata, dove l'ho cercata, che cosa ho controllato prima di acquistarla, ma prima, ricordo a tutti quelli che non l'avessero ancora fatto, di iscriversi al canale cliccando il bottone qui sotto. Quelli che lo faranno subito avranno chiaramente una probabilità molto più bassa di comprare delle fotocamere usate che si riveleranno poi essere difettose. Cominciamo subito col dire una cosa. Chi mi conosce e mi segue già lo sa, io non amo particolarmente l'usato. Perché? Perché l'usato è già stato usato da qualcun altro e noi non sappiamo come è stato usato ed è difficile calcolare la vita residua di quello che compriamo. Quando io acquisto qualcosa di nuovo so che la sua vita residua è 100%, quando io acquisto qualcosa di usato la sua vita residua può essere 50%, può essere 70%, a volte mi va bene, ma può essere anche 20% e non lo posso sapere. Questa è una cosa che a me disturba molto. Per contro c'è l'indubbio vantaggio che quando acquistiamo usato andiamo a spendere una cifra che chiaramente è una frazione del suo reale valore di mercato perché appunto è già stata usata da qualcun altro. Le cose principali da tenere a mente quando si acquista usato sono chiaramente il numero di scatti. Il venditore, se è onesto, deve riportare il numero di scatti che la macchina ha già effettuato, le attuazioni dell'otturatore, che di solito devono essere inferiori a 150.000. Nel senso che 150.000 attuazioni è il limite per cui la casa madre garantisce un otturatore meccanico. Quindi oltre 150.000 io te la posso vendere lo stesso, ma chiaramente il prezzo deve scendere di conseguenza perché è una macchina che in teoria ha terminato il suo ciclo di vita garantito dalla casa. Poi, io vi posso dire che ho visto macchine con 300.000 scatti, 500.000 scatti, quindi non è che muore subito quando ha finito i 150.000. Però dopo i 150.000 siamo comunque un po' a rischio e quindi questa è una cosa su cui possiamo tirare sul prezzo e cercare di farcelo abbassare. In questo caso questa macchina aveva 66.000 scatti. Una cosa un po' anomala perché è una macchina tutto sommato non nuovissima, con, devo dire, pochissimi scatti. Sarà stata comprata da qualcuno che l'ha usata probabilmente poco e magari la rivendeva proprio per inutilizzo. E io sono stato fortunato ad arrivare proprio al momento giusto e accaparrarmela. Altra cosa da controllare, le prese. Noi qui abbiamo una serie di prese, per cui abbiamo il microfono, il flash, il comando remoto, l'uscita cuffie, l'uscita per la V-out e l'HDMI. Dobbiamo controllare ovviamente che siano tutte funzionanti. Le gommine che vanno a coprire questa parte, che siano ben tenute, che non siano logore, in questo caso sono perfette, sembrano nuove praticamente. Gli attacchi per la tracolla sono una cosa da controllare. Una cosa su cui sicuramente dobbiamo fare molta attenzione è la ghiera dei modi. Quindi io consiglio... Sentite. Spero che riusciate a sentirlo. In questo caso il rumore è molto buono. Questa è una ghiera che nonostante abbia un paio di graffi, non è stata usata tanto. La macchina mi è stata consegnata in modalità M, quindi probabilmente è anche stata trattata bene da qualcuno che la usava come si deve. Altre cose da controllare, ovviamente le altre ghiere. Vi devo dire la verità, la ghiera dei diaframmi non mi convince tantissimo, perché fa due rumori diversi. Se giro in senso orario e in senso anti-orario fa due rumori diversi. Questa è una cosa che non mi piace tantissimo, però sembra funzionare correttamente e se si dovesse in qualche maniera guastare posso comunque portarla in assistenza e farmi sostituire solo questa ghiera per una cifra che so già essere inferiore ai 150 euro, quindi diciamo che è accettabile. I bottoni. I bottoni sul corpo macchina sembrano tenuti in perfetto stato, funzionano tutti perfettamente. Monitor. Il monitor che in questo caso non è articolabile, a me piace molto che non lo sia. Ha addirittura la pellicola protettiva ed è perfetto, non presenta nessun segno di usura o graffio. L'oculare. Anche questo si presenta pulito e in ottimo stato. Il joystick sembra che un po' sia stato usato. è ancora perfettamente funzionante, ma sembra comunque, si vede che è stato usato. Io lo userò pochissimo, quindi mi tocca poco questa cosa. Per il resto bisogna andare a verificare che non ci siano particolari segni di usura sul body. Ora, questo body qui sul retro ha uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette graffietti, anzi otto. Questi potrebbero essere segni di, sono chiaramente segni di impatto. Su una macchina come questa, segni di impatto di questo tipo, secondo me non hanno lasciato danno alcuno all'interno, perché una volta le macchine le facevano corazzate, quindi questa, delle tacchettine come queste, le regge tranquillamente. Questa è una cosa importante da andare a controllare, perché, a seconda della tipologia di macchina, se noi prendiamo un'ammiraglia, una professionale di dieci anni fa, con dei segni di usura, è una macchina che potenzialmente funziona ancora benissimo. Se prendiamo una entry level di dieci anni fa, con dei segni di caduta, quello è un corpo molto meno robusto, molto meno resistente, e stiamo rischiando di più ad andare ad acquistare una cosa del genere usata, e con evidenti segni di usura, perché quel tipo di strumentazione, delle cadute come questa, probabilmente non le regge altrettanto bene. Ovviamente una volta che ce l'abbiamo in mano, la accendiamo e andiamo a fare un test di messa a fuoco, subito, primissima cosa da fare, vedere se mette a fuoco correttamente, lungo tutta la lunghezza, resa disponibile dal nostro obiettivo, io ovviamente questo test l'ho già fatto, l'ho anche provata un pochettino in esterna, ho verificato che il sensore non contenesse chicchi di polvere, il sensore dovrebbe essere consegnato pulito, e in questo caso è perfettamente pulito. Lo specchio sembra essere perfettamente in asse, devo dire, lo specchio presenta un paio di chicchi di polvere. Questa è una cosa seccante, però non è grave, perché finché quei chicchi di polvere rimangono sullo specchio, fa niente, poi nelle foto non creano nessun problema, ma c'è semplicemente un chicco di polvere sullo specchio, finché rimane lì e io vedo che non si muove, lo lascio lì. Se si dovesse spostare prenderò provvedimenti, ma per adesso se rimane fermo lì non lo tocco neanche, che tanto non mi dà fastidio. Altra cosa da controllare, la hot shoe, l'attacco per flash, slit o quant'altro. In questo caso mi sembra che sia stato usato, perché comunque vedo dei segni di spinta qui sopra, però molto lievi. Ho delle macchine che ho usato personalmente, che presentano dei segni di abrasione anche maggiori, quindi credo che sia stato usato poco il flash su questa macchina. Ovviamente verifichiamo che tutti i vari bottoni funzionino correttamente, io ho già fatto un test, ho provato tutti i bottoni, ho provato tutte le ghiere, funziona tutto nella maniera migliore. Controlliamo i menu, controlliamo la versione del firmware, io qui devo dire, ho aperto i menu e ho trovato un firmware che non avevo mai visto prima, perché non è il firmware delle mie macchine più vecchie, non è neanche il firmware delle mie macchine più nuove, quindi ho un menu che si presenta in modo un po' diverso da quello a cui sono abituato. Ovviamente le cose le trovo benissimo lo stesso, però forse potrei trovare un aggiornamento del firmware che mi porta questo menu esattamente allo stesso livello dei miei menu più moderni. Quindi questo potrebbe essere un motivo per cui fare l'update del firmware, perché così magari mi uniforma tutti i menu, è una cosa a cui potrei pensare. Altra cosa da verificare è ovviamente lo stato del sensore, quindi io la prima cosa che ho fatto dopo aver fatto tutti questi controlli sono uscito, ho verificato, ho scattato un paio di foto con il cielo in maniera tale da vedere se c'era polvere, se c'erano difetti di vario tipo sul sensore, e poi ho provato a scattare un po' di foto in ambiente anche dinamico per cercare di capire se funzionava tutto correttamente, devo dire non ho riscontrato nessun problema. Quindi a questo punto l'ultima cosa che rimane da fare è dare una pulita al body, adesso vado a dargli, è già stata pulita suppongo dalla casa, però vado a dargli una pulita ulteriore, e queste più o meno sono le cose che vado a controllare quando acquisto qualcosa di usato. Parlando dell'acquisto vero e proprio, chiaramente io devo basarmi sulle immagini che mi vengono messe a disposizione sul sito dove la vado ad acquistare, e quindi ho controllato che non ci fossero segni di usura evidenti, qui ci sono, come ho detto prima, un paio di tacchette ma sono pressoché invisibili, si sentono a mala, anzi, devo dire al tatto io non le sento, quindi sono segni pressoché inesistenti, la macchina comunque sembra tenuta molto bene e ha molti pochi scatti, quindi queste sono cose che ho verificato chiaramente sul sito del produttore. Un'altra cosa da verificare è il prezzo. Vi devo anche dire che avevo trovato due offerte, due offerte su due siti rivali, un'offerta era della stessa macchina che veniva via per 1300 euro e aveva l'otturatore appena sostituito, quindi era una macchina probabilmente più utilizzata, però con l'otturatore nuovo. Questa invece è una macchina meno utilizzata, però con l'otturatore che potenzialmente è a metà del suo ciclo di vita. e questa però costava 600 euro, quindi la metà. Devo dire, io come primo impatto avrei preso quella che costava di più perché aveva l'otturatore nuovo, ma me l'hanno soffiata da sotto il naso, nel senso che stavo per acquistarla e me l'hanno zanzata, l'ha comprata qualcun altro e quindi sono andato prontamente a prendermi quest'altra per non farmi soffiare sotto il naso anche questa. Come si comprano online le cose usate? Il mio consiglio ovviamente è quello di rivolgersi solo a negozi autorizzati, quindi negozi, grandi catene, grandi distribuzioni che comunque hanno dell'usato è garantito. Io ho una garanzia di 12 mesi su questo acquisto, quindi sono sicuro che funziona, sono sicuro che l'hanno controllato a dovere e soprattutto sono sicuro che se dovessi avere un problema nell'arco dei 12 mesi posso tornare in negozio e cercare di contrattare la riparazione o la sostituzione. Questo è molto importante. Quindi si può anche comprare da privati e io l'ho fatto, la 5D Mark II che ho già comprato, l'ho comprata da un privato ed è stato un ottimo acquisto perché funziona ancora, ce l'ho ancora lì, funziona benissimo e aveva più o meno lo stesso numero di scatti di questa. Quindi basandomi anche su quell'esperienza ho fatto un acquisto simile. Questa volta però per tutelarmi un pochino di più l'ho voluto fare in negozio. Una cosa che vi segnalo che personalmente ho trovato molto vantaggiosa è il pagamento con PayPal perché possiamo fare il pagamento con PayPal suddividendo la spesa in tre rate. Questa è una cosa che secondo me è molto smart e molto furba perché anche se è un acquisto non particolarmente pesante perché comunque 600 euro ho fatto di peggio in vita mia, ne ho comprate di più costose e anche senza le rate. Però potendo dividere la spesa in tre rate automaticamente con PayPal con una commissione ridicola lo trovo molto vantaggioso e poterlo fare anche sull'usato senza neanche dover presentare una busta paga o chissà che è una cosa che sicuramente aiuta soprattutto gli amatori che magari vogliono acquistare qualcosa ma senza svenarsi. Per cui ve lo segnalo questa possibilità l'ho trovata molto interessante. A questo punto ci vedremo in prossimi contenuti dove magari vi farò vedere il menu e vi farò vedere qualche scatto realizzato con questa fotocamera. Fatemi sapere in un commento se vi interessa perché di menu ne abbiamo già visti tantissimi e il menu di questa è uguale al menu di tante altre che abbiamo già visto. Però se in tanti mi dite sì fallo allora ve lo faccio lo stesso. Vi chiedo però di segnalarmelo in un commento così cerco di direzionare un po' i miei contenuti anche in base ai vostri gusti e sicuramente vi farò poi vedere delle immagini scattate con questa fotocamera e ho anche in mente di fare una bella sfida. Voglio fare una sfida la Mark II contro la Mark III per vedere come si comportano e andare un po' a vedere le differenze adesso che finalmente ce le ho in mano tutte quante. È proprio bello avere tutta la dinastia di queste macchine. Mi manca la prima mi manca il capostipite magari un giorno che quella a 200 euro secondo me la trovo magari un giorno mi porto a casa anche quella. A questo punto vi chiedo come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate qualcuno di voi è in possesso di questa bellissima macchina qualcuno di voi l'ha appena venduta a 600 euro magari ho comprato quella di qualcuno di voi. Parliamone come sempre qui sotto nei commenti io vi ricordo di iscrivervi al canale come sempre perché se non ve lo ricordo io qualcuno di voi ancora se lo dimentica. Signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io e questa bellissima Reflex d'altri tempi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao 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 Ciao